numero 5 un letto da viaggio multifunzionale che si può usare per viaggi a lunga distanza in cui ci si deve fermare per riposare dispone di una pompa ad aria che lo rende molto facile da gonfiare in soli due minuti grazie al suo design generico può essere adattato alla parte posteriore dell'auto sia sopra i sedili che nella zona del bagagliaio è fatto di pvc molto resistente rendendo la superficie vellutata del letto non deformabile non crea odori e riduce il rumore con l'attrito del vostro corpo in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 4 questo è un letto gonfiabile perfetto per tutti i tipi di viaggiatori che percorrono lunghe distanze in auto con il suo materasso in pvc che è molto confortevole è un materasso per auto che può essere facilmente gonfiato con la sua pompa elettrica in soli due minuti questo è un prodotto in grado di sopportare più peso tra tutti i modelli di questa lista infatti secondo le sue specifiche ha una capacità fino a 600 chili trovi il link di questo articolo in descrizione numero 3 un letto da viaggio multifunzionale che si può usare per viaggi a lunga distanza in cui ci si deve fermare per riposare con una pompa d'aria che lo rende molto facile da gonfiare in soli due minuti grazie al suo design generico può essere adattato alla parte posteriore dell'auto sia sopra i sedili che nella zona del bagagliaio è fatto di pvc molto resistente rendendo la superficie vellutata del letto che non si deforma non crea odori e riduce il rumore con l'attrito del nostro corpo acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 2 se volete investire in un materasso per l'auto che sia di buona qualità e con un prezzo accessibile questo marchio top fit risponde molto bene alle caratteristiche di comfort e funzionalità si tratta di un modello realizzato in pvc quindi è garantito un uso duraturo oltre a un rivestimento impermeabile che mantiene il letto ad aria senza acqua il suo design come gli altri della lista si adatta a diverse dimensioni quindi avrete un materasso che si adatta senza problemi al bagagliaio di un furgone o suv puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione numero 1 realizzato in pvc di alta qualità è un materasso per l'uso in auto che non si deforma in modo da poter dormire comodamente tutta la notte ha una superficie di rivestimento che riduce il rumore quando ci si muove così come un rivestimento interno che impedisce le forature questo letto gonfiabile si distingue per il suo design che è in grado di adattarsi a diversi spazi in quanto ha una costruzione a blocchi che si piega alla dimensione desiderata e la sua capacità di sostenere fino a 380 kg in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto